ecco partita la finale agli edimaschi 10.000 metri eliminazione avremo la prima campana meno 50 seguita subito da un'eliminazione il ritmo qui è partito molto concitato con gli atleti che vogliono mettere un'ipoteca sulle prime posizioni sin da subito non vogliono rimanere in coda perché rimanere indietro significherebbe rischiare l'eliminazione di un rischio troppo elevato amonita ammonito il numero 173 ma qui Ecco la prima campana, la campana del meno 50 qui dal prossimo giro ci sarà la prima eliminazione ed ecco che gli atleti infatti aumentano il ritmo proprio per tentare di accelerare e di non rimanere in ultima posizione perché rimanere in ultima posizione significherebbe essere eliminati adesso vediamo chi è l'eliminato del numero 170 il gruppo è abbastanza compatto ammunito il numero 261 il gruppo è abbastanza compatto però ci sono atleti che tentano di risalire adesso c'è la campana del meno 46 quindi al prossimo giro c'è l'eliminazione seconda ammunizione per il numero 173 che quindi passa in diffida eliminato il numero 174 il numero 174 bravo 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 ecco la campana del meno 42 qui nel prossimo giro c'è l'eliminazione c'è molto movimento all'interno del gruppo altri atleti si stanno distanziando c'è qualcuno che tenta una risalita in extremis per salvarsi dall'ultima posizione eliminato il numero 59 eliminato il numero 59 però io non c'ero senza sensibilità senza sensibilità adesso io mani ogni volta io mani ogni volta a me un po' a me un po' a me un po' ci sono stati un paio di giri di calma ma adesso il ritmo torna ad aumentare perché tra pochissimo ci sarà l'eliminazione del meno 37 ha munito il numero 335 eliminato il numero 173 ha munito il numero 81 ha munito il numero 34 intanto è appena suonata la campana del meno 34 quindi al prossimo giro ci sarà un'altra eliminazione eliminato il numero 19 fin90 il numero 24 è mattino incontri 15 pochissimo anche ecco la campana del meno 30 quindi avremo un'eliminazione al prossimo giro intanto il gruppo rimane comunque con fatto quindi non ci sono dei tentativi di fuga intanto ha munito il numero 103 eliminato il numero 18 non ci sono atleti distaccati né davanti né dietro il gruppo continua così in maniera compatta alternando momenti di accelerazione momenti di maggiore calma di tattica potremmo dire campana del meno 26 al prossimo giro c'è l'eliminazione eliminato il numero 103 per taglio di percorso quindi salta l'eliminazione non ci sono Grazie a tutti Grazie a tutti 113 eliminato per taglio di percorso eliminato il 113 per taglio di percorso quindi salta un'altra eliminazione ma quante volte ha fatto legare il 113 per taglio di percorso? quante volte ha fatto legare il 113 per taglio di percorso? tanto le limitazioni vediamo vieni le mani le può usare eliminato il numero 335 la gara si fa sempre più avvincente con un gruppo che però rimane ancora compatto non ci sono bughe in avanti né atleti che sono rimasti indietro distaccati dal gruppo sono tutti lì non ci sono ecco la campana del meno 14 quindi al prossimo giro c'è l'eliminazione cambio di ritmo al suono della campana proprio perché nessuno vuole rimanere indietro eliminazione in corso eliminato il numero 304 ha munito il numero 297 ecco la campana del meno 10 prossimo giro eliminazione eliminazione in corso eliminazione in corso il numero 261 Sempre meno atleti in pista, ormai manca pochissimo per la fine di questa gara Stiamo entrando proprio negli ultimi giri Il ritmo si è un attimo rallentato Il che ha permesso a qualche atleta che si era distaccato di rientrare Però adesso c'è la campana del meno 6 Quindi al prossimo giro eliminazione La penultima eliminazione Eliminazione in corso Eliminato il numero 270 A te, recupera! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Gli atleti ancora un po' si studiano Ma adesso c'è qualcuno che sta provando a prendere l'iniziativa Per concludere questa gara Perché manca veramente pochissimo Ed ecco la campana del meno 2 E quindi al prossimo giro ci sarà l'ultima eliminazione Facciamo sentire il tipo A questi atleti Agli ultimi 5 atleti di questa gara Agli allievi maschi Finale 10.000 metri Eliminazione Eliminato il numero 90 Adesso è l'ultimo giro Gli ultimi metri L'ultimo tratto È il momento di dare tutto Non ci sono altre possibilità E chiudono 3 atleti Della società di casa In prima posizione Della Roll Nipotica